Musica Ben ritrovati al TG Canavesi in due minuti, notizie di oggi, mercoledì 31 gennaio. Intervento dei vigili del fuoco di Rivarolo Canavesi ieri sera intorno alle 20 in via Maurizio Farina a Rivarolo. L'allarme è scattato per un uomo che ha accusato un malore in casa. I volontari hanno raggiunto il terzo piano del condominio, l'alloggio dell'uomo, che è stato subito affidato alle cure dei sanitari. Incidente questa mattina poco prima delle 9 sulla strada provinciale 61 a Baldissero. A scontrarsi un Fiat Ducato blindato con a bordo due uomini del personale All System diretti in Val Chiusella e un Fiat Bravo condotto da una donna che scendeva verso Castellamonte. Feriti uno dei due uomini e la donna non sono gravi. Fuori dal Partito Democratico e senza simboli di partito cercherò il contributo e l'alleanza di tutti coloro che vogliono che Ivrea cambi e possa liberare tutte quelle risorse oggi imprigionate. Ad affermarlo Elisabetta Ballurio che dopo essere uscita dal PD in seguito alla vicenda delle primarie ha fondato una lista civica chiamata insieme per Ivrea. Questa mattina i 25 lavoratori della Machiper, azienda meccanica della zona industriale di Robasso Mero sono scesi in agitazione per la salvaguardia dei posti di lavoro dopo la notizia che l'azienda vuole trasferire l'attività produttiva nell'est Europa. Infatti a Robasso Mero ci sarebbe soltanto più lavoro per 4 o 5 dipendenti. Le notizie sul futuro della storica azienda da oltre 30 anni sul territorio è immediatamente sollevato timore sulla sorte dei dipendenti. Il consultorio familiare e gli ambulatori specialistici ostetrico-ginecologici di Settimo Torinese sono trasferiti da Via Leni alla Casa della Salute presso l'ospedale Piano Terra. Le attività saranno operative nella nuova sede a partire dal lunedì 5 febbraio. I numeri telefonici di riferimento rimangono gli stessi e le attività saranno regolarmente garantite senza alcuna interruzione come la prenotazione già effettuata. Breve cerimone di inaugurazione questa mattina al liceo artistico Felice Faccio di Castellamonte per la consegna di una lavagna interattiva multimediale donata alla scuola dal Lions Club Alto Canavese. La lavagna interattiva resterà a disposizione di tutti gli studenti, soprattutto per i ragazzi disabili, in un percorso di didattica inclusiva nella quale il liceo Faccio crede molto. È tutto per questa edizione, vi ricordo per le altre notizie potete collegarvi a www.btvnews.it oppure scaricare l'app gratuita da Postoro Google Play, un segmento di serata. Ben ritrovati amici del Centro Aumento Italiano. Il transito di un fronte freddo sulla nostra penisola porterà a maltempo nei prossimi giorni, manca un generale calo delle temperature. Vediamo quindi in dettaglio le previsioni per giovedì 1 febbraio. Al mattino sono attese piogge e pioviggini sparse al nord Italia sul versante tirrenico, mentre la neve cadrà fino a 600-800 metri, specie sulle Alpi. Per il pomeriggio i fenomeni andranno ad intensificarsi, specie al nord-est, come sul Levante Ligure, dove sono attesi rovesci e locali temporali. Continuerà a piovere anche sul Tirreno, sulla Sardegna e sulle regioni settentrionali, così come in serata, con neve sulle Alpi e sugli Appennini. Innotata precipitazione sparse su tutta la penisola, come potete vedere qui a fianco, con piogge, rovesci e neve fino anche a 400 metri sull'arco alpino. Le temperature sono previste in generale rialzo, specie nei valori minimi, mentre le massime tenderanno a non subire variazioni di rilievo. Non dimenticate infine di scaricare gratuitamente la nostra App Meteo oppure di visitare il nostro sito per avere le previsioni dettagliate per tutte le vostre località. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano! Grazie per la visione!